32 scritti per raccontare Michele Cesaro. Si chiama La leggerezza dell'Io, il volume che colleghi ed amici hanno deciso di dare alle stampe per ricordare il docente universitario di Giffoni Vallepiana, scomparso prematuramente un anno fa. Sabato scorso, nel convento San Francesco, c'è stata la presentazione voluta fortemente dalla moglie Alessandra e dal figlio Pier Giorgio. Michele Cesaro era docente di psicologia dello sviluppo e dell'educazione all'Università degli Studi di Salerno, una vita la sua spesa nella didattica e nella ricerca. Nel corso del convegno, moderato dal giornalista Mariano Ragusa, numerosi sono stati i contributi e i ricordi di amici e colleghi. Michele rappresenta per me la meglio gioventù, nel senso che per noi Michele era un modello non culturale, perché all'epoca lui era giovane, parlo che aveva 17-18 anni. Noi vestivamo da straccioni, con jeans e cose, mentre lui, siccome non c'era ancora il Made in Italy, vestiva all'inglese. C'era un po' di competizione tra lui e Angelo Russomando, che veniva chiamato l'ordino. Lui ha inventato uno stile slow di vita, molto lento, molto compassato, usciva alle 11 di mattina, andava a giocare a bigliardo. E poi, diciamo, a un certo punto, quando ha lasciato gli istituti superiori e si è avventurato nell'università, abbiamo incominciato a smarrire le tracce di Michele. Poi, dopo tanti anni, è ritornato a Giffoni e l'abbiamo impegnato nel borgo medievale di Terravecchia e subito si è attivato per farci avere un corso di formazione sulle pari opportunità. Quindi si è speso. Commosso anche il ricordo del sindaco Paolo Russomando, che ha evidenziato il suo impegno all'interno del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Borgo Terravecchia, annunciando l'imminente intitolazione di una delle sale del Palazzo Federico II.